Sul territorio dell'Ucraina, al giorno d'oggi funzionano 16 laboratori batteriologici militari dell'USA. Di 9 di loro si sa l'indirizzo, di altri 3 non si sa niente. Secondo dei presupposti, uno si trova da qualche parte a Kiev, l'altro a Leopoli e il terzo a Kharkov. Proprio in queste città, vicino ai palazzi della rappresentanza degli Stati Uniti, furono avvistate le colonne delle macchine militari americane, trasportanti i carichi con il timbro dell'alto livello di sicurezza biologica. Gli esperti occidentali nel campo della tecnologia di modifica genomica dei virus nel 2021 hanno informato che il Pentagono ha portato a Kharkov campioni del virus più pericoloso del mondo, vaiolo naturale, che appartiene agli agenti patogeni del gruppo 4. Gli esperimenti con questo virus sono vietati in tutto il mondo e il tentativo di lavorare con questo agente patogeno rientra nel punto di diritto internazionale delle Nazioni Unite, crimini contro la pace e l'umanità. Il lavoro con il virus del vaiolo naturale, così come il suo stoccaggio, è consentito solo in due posti sul nostro pianeta. In Laboratorio Vector, Novosibirsk, Russia, è il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie in Georgia, Atlanta. Tuttavia, gli americani hanno capito che impegnarsi nel miglioramento di virus e batteri nel loro territorio non valeva la pena. Dopodiché si è deciso di trasferire in segreto i campioni del virus vaiolo naturale in Ucraina. Scegliendo in quale laboratorio sperimentare con il virus, gli Stati Uniti partivano da una semplice logica. La vicinanza alla Russia e l'accessibilità facile con i mezzi di trasporto. Pertanto è stata scelta la città di Kharkov. Ecco, su questa mappa si vede in basso, il punto basso è Kharkov. Poi in alto vedete la linea viola della frontiera. E il punto alto, la città di Belgorod. Dove abita tra l'altro una mia carissima amica. All'inizio di gennaio del 2022, nelle mani dell'intelligence russa, arriva l'informazione che i microbiologi militari del Pentagono, del laboratorio batteriologico di Kharkov, hanno inviato un rapporto al capo del Comitato di Stato Maggiore, il generale Mark Milley, con una nota che si è riuscito a raggiungere la particolare struttura del genoma del virus del vaiolo. La descrizione legata al rapporto indica che la modifica ottenuta del virus è in grado di colpire i polmoni di una persona lasciando le cicatrici all'interno dei polmoni. La mortalità è di 80-85%. Vi faccio vedere il paragone con Ebola. Il tasso di mortalità per Ebola è solo il 35-40%. E' importante notare che gli Stati Uniti dal 1984 hanno cercato un virus di combattimento con un potenziale altamente letale, talmente letale che può causare dei danni irreparabili alla popolazione sul territorio del nemico. E cosa c'entra con la Russia? A giudicare dagli ultimi eventi, parlo dell'operazione militare per proteggere la popolazione del Donbass, nel Cremlino hanno ricevuto alcune informazioni sulla prontezza degli Stati Uniti di applicare contro la Russia proprio questo virus. La procrastinazione in tale situazione potrebbe portare al genocidio della popolazione russa. E' importante notare che da Kharkov, alla più vicina città russa, Belgorod, quello che vi ho fatto vedere prima, sono soltanto 110 km, due ore di macchina. Ogni giorno il traffico in entrambe le direzioni ammonta a 450 macchine. Considerando il periodo soltanto dell'incubazione del virus, del vaiolo naturale, si può benissimo prevedere che un tassista di Kharkov che porta giornalmente la gente alla stazione, per esempio, o un maestro che va a insegnare a scuola, potrebbe infettare come minimo dieci persone. E dopo i contagi crescono in una proporzione geometrica crescente. Dal sito dell'ambasciata americana a Kiev sono stati cancellati alcuni documenti riguardanti i laboratori batteriologici. Ve li faccio vedere. Iniziamo ad analizzare i documenti cancellati in fretta e furia dal sito dell'ambasciata americana a Kiev. Arriviamo poi fino in fondo. Il primo punto. Obiettivo. Permesso di lavorare con patogeni. Finanziatore. Stati Uniti. Kharkov è stato uno tra i primi obiettivi nell'avanzata di Putin. Non è il caso. Altro documento. Li ho scaricati otto. Lo potete fare anche voi. Nella descrizione al video, quindi sotto il video, vi lascio tutti i link dei PDF da scaricare. Questo è il secondo documento. Istituto di studi veterinari di Lugansk. Edificazione Nuovo Laboratorio. Una delle due repubbliche indipendenti riconosciute adesso dalla Russia. Sponsor. Stati Uniti. Dipartimento della difesa. Degli Stati Uniti. E anche qui vediamo. Permesso di lavorare con patogeni. Notate il trasferimento del bene al beneficiario. Questo è un trust puro. Questo è un trust puro. Gli Stati Uniti e il Dipartimento della difesa pagavano il conto con i soldi dei contribuenti americani. Una volta concesse tutte le approvazioni, una volta cominciati a creare nuovi patogeni, dato che l'America non può partecipare perché viola i trattati di non proliferazione di armi biobatterologiche, passava tutto nelle mani del governo ucraino e del Deep State che operavano lasciandole le mani pulite, ovvero il beneficiario e il governo ucraino. Il terzo documento che vi faccio vedere è costruzione ex novo di un laboratorio, località Dnipropetrovsk, sponsor Dipartimento della difesa degli Stati Uniti, beneficiario Ministero della salute ucraino. Anche qui permesso di creare patogeni e via discorrendo. Sono tutti laboratori nuovi di pacca, comprese attrezzature, pagati dal DOD americano, trust creati nel 2010. Nel 2014 c'è stato il colpo di Stato. Cerchiamo di abbinare queste date. 2010 e del 2014. Evidentemente i lavori erano finiti e bisognava cominciare a produrre tutta quella merda, senza essere disturbati. Questi sono i nomi delle città dove ci sono i laboratori. A Kiev il progetto è finanziato da Washington. Rende beneficiario il servizio fitosanitario nazionale. Lo stavano ancora costruendo. I permessi per giocare con virus, spore, batteri e funghi sono già accordati. Chi ha guardato il video fino alla fine è sicuramente una persona interessata a cercare e trovare la verità. E proprio voi, voi, i miei amici italiani, siete invitati nel mio canale in Telegram dove sto dando le notizie lampo. Non dico ogni ora, certamente no, però molto spesso. Quando c'è qualcosa di importante lo riporto lì.